E comincia qui lo spazio, qui Napoli, lo spazio che come sempre, come di consueto, è con i compagni napoletani, è prevista dall'Associazione Radicale per la Grande Napoli naturalmente, che è una delle due associazioni che lavorano nell'ambito territoriale di Napoli. Ecco, scontattiamo innanzitutto Rodolfo Viviani, che è il presidente dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, Rodolfo dovrebbe rispondere, ci scontattiamo anche Luigi Mazzotta, che invece è il segretario, e naturalmente Mariangela Pisano, che è la tesoriera. Ecco, dovrebbe essere già il collegamento Luigi Mazzotta, ciao Luigi, come stai? Buonasera ragazzi. Tutto bene Luigi? Eh, abbastanza bene, sta piovendo. Sta piovendo, beh insomma, in tutta Italia non è che stia facendo gran bel tempo, diciamo, anche qui sono arrivati i primi nuvoloni che si sono in cielo e che naturalmente oscurano il bel sole del mezzogiorno. Dopo questa frase poetica, diciamo così, introduciamo Mariangela Pisano, pronto Mariangela, ci sei? Sì, io vi sento, io vi sento, voi? Sì, vi sento perfettamente. Rodolfo sei in collegamento? Ci sono, ma sono in ritardo. Mi sentite? Sì, non ti preoccupare. Va bene, allora io... Chiamo anche Gianni Colacione, che sarà con lui che condurrà questo spazio, intanto che voi ultimate le ultime cose, ecco dovrebbe arrivare Gianni Colacione. Luigi, se riesci a mandarci il video anche tu, e Mariangela se puoi migliorare un po' l'inquadratura. Perfetto Mariangela, va benissimo così Mariangela, grazie. Va bene. Ok, ecco aspettiamo che arrivi anche Gianni, io vedo tutto nero Rodolfo. Sono nero, ma perché se non posso mandare immagini oscene, la fascia è protetta, mi sto vestendo. Ah, ho capito, sei un po' in ritardo in questo senso. No, io l'ho inviato, però non compare. Prova a inviare nuovamente Luigi, vediamo se riusciamo a risolvere questo problema. Esco dallo schermo intero. Dove c'è il simbolo dell'avvia video, avvia il video. Bene, intanto Mariangela come stai? Ecco sta arrivando qui, bravo Luigi. Sei bene Mariangela? Sì sì sì, bene grazie, è ancora meglio dopo il congresso. Allora ecco, favoriamo finalmente l'ingresso con la bella immagine di Mariangela Pisano. Ecco, dopo il congresso, quindi è stato un congresso importante, e da quello che ho sentito dire dai compagni, è stato sicuramente un congresso molto bello e con un'affluenza anche che è andata oltre le aspettative. Intanto Gianni non risponde, io provo a dire... Lo rispondiamo qui. Ah, ci sei Gianni, perché non vedo il tuo video. Io ci sono. Non vedevo il tuo video. Ah, lo rimando? Sì, prova a rimandarlo. Intanto è arrivato anche Rodolfo e Luigi. È arrivato? Sì, sta caricando, sta caricando. Vediamo un po' se carica. Eh, Rodolfo e Luigi, Gianni, io ti lascerei la conduzione. Va bene. E intanto che arriva il tuo video, però non lo vedo ancora. Provate ad avviarlo di nuovo Gianni, vediamo un po'. Va bene. Prima di lasciarti la linea. Ecco, l'ho rimandata. Sì, vediamo se arriva il video. Segretario, ecco, Mariangelo è andato via il tuo video. Ecco, ritorno nel video di Mariangelo. Stiamo facendo una telecronaca dei segnali video Skype, praticamente. Va bene, Gianni, io direi di cominciare. Va bene, sì. Comincio pure, io resto collegato finché non arrivano tutte le immagini video. Prego a te la parola, Gianni. Va bene, allora, ovviamente è un benvenuto a tutta quanta l'Associazione per la Grande Napoli, che è stata presente al congresso, diciamo, con una rappresentativa molto corposa, insomma, per quanto riguarda l'Associazione, mi è sembrato una bella prova, insomma, anche per l'Associazione per la Grande Napoli. E a questo punto, io, a parte che un pochino volevo fare un filo, diciamo, con un collegamento con l'editoriale che ho appena fatto, e volevo sapere, appunto, qual era la condizione attualmente a Napoli, se ci stava un'emergenza in corso, da un punto di vista, appunto, che lì piove e se è una cosa, insomma, devastante o si prevede che sia, appunto, pericolosa. E poi dopo, ovviamente, darei spazio a voi, che potete rimpallarvi tranquillamente la parola per illustrarci le attività e le iniziative dell'Associazione per la Grande Napoli. So che avete qualcosa di nuovo da annunciarvi, non ve lo brucio, lo lascio a voi. Non so chi vuole cominciare, diamo la parola intanto a Mariangela, vai. Sì, io comincio con l'annuncio dell'apertura della nuova sede, finalmente abbiamo la nostra sede a Napoli e quindi martedì alle 17 in via San Domenico Maggiore, Vico, San Geronimo, vedremo la nostra prima riunione e anche l'inaugurazione, quindi ripeto, venite tutti perché sarà oltretutto un momento anche un pochino piacevole, oltre che politico. Se avete problemi potete chiamarvi in qualsiasi momento, qualcuno non conosce bene l'indirizzo, però credo che se si conoscono via San Domenico Maggiore, la riunione sicuramente verterà sulle prossime iniziative politiche, o meglio sulla politica produzione, e anche la preparazione dell'assemblea congressuale che fin da adesso, posso dire, si terrà il 17 dicembre, quasi sicuramente all'hotel Terminus, abbiamo in programma degli inviti anche abbastanza importanti, speriamo che siano accettati. E niente, voglio dare la parola al Presidente, al Segretario, e poi magari la riprenderò dopo. Grazie. Io non so se vuole intervenire Luigi, che ha fatto Gianni. Diciamo che purtroppo siamo in una regione che è tra le più dissestate dal punto di vista idrogeologico. Abbiamo avuto qui a Napoli Marco Pannella, consigliere comunale, che raccontava negli anni anni 80, quale fosse la situazione e quali le soluzioni da mettere in campo. Lo stesso istituto della protezione civile in Italia si deve alle iniziative radicali. A Napoli, per 4 ore di pioggia notturna, abbiamo un morto, anche oggi, perché un altro c'è stato 10 giorni fa, e abbiamo allagamenti in tutta la zona vesuviana e nolana. insomma, anche abbastanza importanti. Ora, per fortuna, a Napoli non piove, almeno in città non piove, però la situazione, come al solito, basta, alle prime piogge autunnali, Napoli è una città che deve piangere, diciamo, lutti. E quindi, insomma, che cosa possiamo dire? È stata rinviata anche la partita di calcio di stasera Napoli-Juve, per cui, non so, comunque c'era stata un'allerta della protezione civile a 24 ore di oggi, non so in 24 ore poi, che cosa si possa mettere in campo quando sappiamo che, ad esempio, tutti i lavori di manutenzione delle infrastrutture fognari, eccetera, nella città sono inesistenti e ci sono anche azioni della città che sono sotto il livello del mare, come il centro direzionale, eccetera. Quindi, insomma, Napoli con un po' di pioggia è un disastro. Se la pioggia poi diventa un'emergenza, perché i millimetri che cadono sono un po' di più del normale, allora veramente poi siamo al disastro. Ma, appunto, oltre questo, questa è la domanda che tu mi hai fatto, chiaramente sappiamo che una manutenzione ordinaria, regolare, è sicuramente meno costosa e meno violenta di interventi straordinari che poi bisognerà fare, bisogna fare, si fanno sempre per emergenza dopo che sono accadute le catastrofe. Queste sono le proposte radicali. Bannella proponeva il geologo di quartiere 20 anni fa, 30 anni fa, purtroppo abbiamo ascoltato anche un'intervista a Radio Radicale due settimane fa, appunto, dell'Istituto, adesso non ricordo il nome, ma un rappresentante dell'Istituto di Geologia raccontava la situazione campana dove l'80% del territorio è franoso e in pericolo. Quindi, insomma, queste sono le mie considerazioni e lascio la parola a Luigi o al direttore, non lo so. Sì, allora, io ho ascoltato l'intervento del direttore e mi sono precipitato subito a prendere la mozione nostra generale, della nostra associazione, all'anno del 2010 e vi voglio leggere il primo punto, dopo tutto quello che, insomma, si sta verificando in Italia riguardo questi disastri che ci sono, e allora il nostro primo punto della mozione dice, evidenzia l'associazione per la grande Napoli, la mozione, la preoccupazione per il drammatico precipitare della crisi economica, morale e sociale in cui versa l'area metropolitana di Napoli, certificata dall'ultimo rapporto del Sole 24 Ore sulla qualità della vita che ci vede per la prima volta all'ultimo posto. La nostra città in questi giorni è umiliata dall'ennesima crisi dei rifiuti, episodio emblematico dell'inarrestabile scempio di leggi, regolamenti, etica pubblica e privata, che ha come risultato la devastazione del territorio, la perdita di vite umane, della ricchezza comune e fin anche della coscienza collettiva e individuale. Per questi motivi esprime la necessità di tentare il passaggio ad una fase di rivolta popolare ai gandiani, alimentando il sadiagra per la pace, il diritto e la democrazia, per realizzare un'alternativa in grado di fermare lo sfascio delle istituzioni locali e nazionali. Napoli ha la possibilità di ritornare alla capitale del sud dell'Italia. Se il suo sviluppo viene progettato all'interno di una visione euro-mediterranea e le sue istituzioni organizzate attraverso le città metropolitane, come previsto dall'articolo 114 della Costituzione italiana, solo con queste dimensioni esisteranno spazi fisici, risorse umane, infrastrutture in grado di generare e attrarre flussi di investimenti economici e sarà possibile ridurre il rischio presuvio. Io l'ho voluto leggere perché alla fine sta qua, noi lo stiamo facendo, lo stiamo proponendo, ma nessuno ci ascolta, ci chiudono tutte le porte, le barriere perché la corruzione è così ampia e così vasta in tutti i settori delle amministrazioni comunali, regionali, provinciali, dove è normale il progetto dello sviluppo dell'area metropolitana di Napoli che poi in effetti sarebbe questo il capofila di tutte le altre province d'Italia, dal centro al nord, qua, è tutto scritto qua. Io volevo semplicemente dire questo e poi in relazione diciamo a quello di cui si sta discutendo, di queste emergenze insomma anche ambientali che noi denunciamo da tantissimo tempo e che sono il nostro campo, il nostro pane che vorremmo regalare a tutti i cittadini. Bene, io volevo appunto relativamente a questo discorso che mi sembra anche voi avete colto come importante perché questa perturbazione praticamente mette a nudo oltre che praticamente la drammaticità ha delle conseguenze che poi ne vengono e delle morti purtroppo che si realizzano anche quello che è il caso Italia. In base a questo appunto su questo volevo chiedervi ma siccome avevo letto che praticamente il sindaco, neo sindaco se così possiamo dire di Napoli in qualche modo era stato in un'occasione un po' apostrofato in un'occasione con la sua macchina insomma dalla popolazione e mi chiedevo se in qualche modo quella speranza che lui aveva alimentato di una discontinuità con le amministrazioni precedenti era una, ormai si stava trasformando in un'illusione oppure se ci sono degli spazi secondo voi anche per questo un pochino la sua campagna era ovviamente sulla questione dei rifiuti ma qui purtroppo le emergenze incalzano e le ordinarie emergenze incalzano e si rinnovano. Secondo voi appunto il sindaco, il neo sindaco pensate possa essere in qualche modo abbastanza capace e anche indipendente per poter promuovere appunto questa discontinuità anche per la gestione del territorio? Parliamo di De Magistris partiamo con lo stesso giro di prima, passiamo a Mariangela ma io veramente ho qualche perplessità, io non credo che De Magistris sia indipendente politicamente nell'insediamento ha fatto molte promesse come per il resto fanno tutti però diciamo che io non non mi sento di essere ottimista, devo dire che noi non abbiamo ancora contattato personalmente il sindaco però abbiamo in animo di farlo a più presto ma non solo sulla questione di cui si discute oggi anche per altre cose per altre tematiche e niente ripeto non sono molto non sono molto fiduciosa questo. Guarda il problema è adalico a Napoli nel senso che c'è proprio una consuetudine e anche un sistema di corruzione come ha spiegato prima Luigi che fa sì che le masse di disperati che a volte non sono nemmeno disperati mi assumo la responsabilità di dire che tra queste persone che hanno aggredito De Magistris come in passato hanno aggredito altri ci sono sicuramente anche agenti provocatori, persone legate alla criminalità eccetera. La consuetudine che abbiamo avuto a Napoli è stata che attraverso la rivolta di piazza, la minaccia, l'occupazione, il pullman bruciato eccetera eccetera si diventasse poi dipendenti in qualche modo del comune, della regione, insomma degli enti pubblici. ora abbiamo ad esempio il caso a Napoli abbiamo alla regione ci ha 1500 lavoratori socialmente utili assunti da Bassolino prima della sua bielezione che non hanno mai lavorato perché non c'è l'organizzazione per farli lavorare. Vincono anche le cause con aumenti di stipendio, insomma belle remunerazioni e si lamentano tra virgolette che non sono messi in condizioni di lavorare. Intanto sono molti anni che prendevano stipendio così. Allora a Napoli ci hanno provato, anzi diciamo che non ci ha provato quasi nessuno però io ricordo incidenti grandi accaduti all'epoca in cui il ministro dell'interno era Giorgio Napolitano. ci fu un tentativo a Napoli di resistere a queste orde che mettono a ferro e fuoco la città pur di prendere un posto e fallì. Incidenti, scontri, dopodiché poi appunto Bassolino dovette capitolare e inserire tutta questa massa di gente nella regione. Ora non voglio entrare nel discorso dei corsi di formazione professionale perché questo è il più grande scandalo in meridione. Tutti i partiti usano questi corsi per finanziarsi illegalmente, produrre masse di disperazione e di gente che non viene formata ma che appunto viene, magari diciamo, viene formata alla rivolta. perché questo è il sistema. Tu ti scrivi alla lista, mi dà il contributo al partito, il corso di formazione non è esistente ma comunque tu ti prendi i 400 euro al mese, una tangente me la dai a me, poi mi voti, sei nel mio indirizzato, insomma questo è nato. Ma tutto il merito di un'Italia credo che sia purtroppo così. Va bene. Allora De Magistris ha sbagliato da subito perché lui è entrato in città facendo delle dichiarazioni molto di apertura verso questi famosi brossi, dicendo ci sarà posto anche per loro, faremo una differenziata porta a porta, impiegheremo tutti, valuteremo tutti, eccetera, eccetera. Ora la corta porta a porta non sta partendo e speriamo che inizi e queste persone ovviamente avendo avuto anche delle promesse diciamo adesso vengono a reclamare. E' tutto nella storia della città. Soltanto che appunto speravamo in una discontinuità perché la regione, la provincia, il comune, eccetera, hanno masse di persone, lavoratori, dipendenti che non fanno nulla. Il comune di Napoli adesso stanno riorganizzando le partecipate. Speriamo bene. Ma qui si tratta di licenziare migliaia di persone in una situazione già drammatica per l'occupazione e per l'economia. Quindi, è chiaro, le battaglie sono sempre quelle ammortizzatori sociali universali, eccetera, ma purtroppo se non c'è la possibilità di lavorare e di assumere persone non si cede al ricatto della piazza. Almeno questa è la mia linea. Poi, non so, quella del sindaco vedremo se si lascia intimorire dalle minacce oppure a questo punto decide di cambiare rotta. Ma è difficile. Qui non ha mai vinto nessuno contro questa gente. Almeno quello che io ricordo. Vai Luigi. Eh sì, Napoli, in fondo, è una città che è sempre stata anarchica da questo punto di vista. La corruzione è degenerata, insomma, partite sia da quando c'era Rastrelli, poi che è subentrato Bassolino, insomma, le regole non sono state rispettate da nessuno, per cui gli apparati si andavano, anzi, formando gradualmente e quindi si andavano anche a consolidare. Il problema di De Magistris è che, sì, lui è stato di dottura, di un punto di vista mio personale, logicamente, che vuole andare anche oltre un po' la visione dell'appartenenza al partito. Allora, De Magistris l'ho visto come una figura che è scesa qui a Napoli ed era convinta anche di vincere, perché Napoli aveva sin troppo subito questa corruzione di destra e di sinistra. Cioè, non dimentichiamoci che Napoli, dopo la giunta, insomma, terrificante, devastante di Bassolino, è andato alle primarie, ci sono stati degli scandali micidiali a Napoli, alle votazioni delle primarie del Partito Democratico, per cui c'era già una sinistra che era zoppa e a quel punto poi, insomma, si sarebbe dovuto lasciare tutto in mano a un centrodestra che poi apparteneva a questa figura di lettieri che, insomma, non poteva poi dare delle garanzie, insomma, ai cittadini. E quindi lui si è insinuato in questa situazione ed è riuscito a diventare il sindaco di questa città. Ma lui, logicamente, si è avvalso soprattutto di una massa di cittadini all'inizio che, insomma, andavano oltre, appunto, sia il Partito Democratico e sia lettieri. Ma dopo, nel ballottaggio, ha dovuto fare degli accordi. E questi accordi sono stati fatti da un Partito Democratico che attualmente a Napoli è totalmente spaccato. diciamo che, in fondo, poi, non è mai esistito, perché questo Partito Democratico non è che a Napoli abbia fatto di sai che cosa, insomma. Quindi, insomma, lui ora dovrà dar conto sicuramente anche a loro. Ricordiamoci che, ora, insomma, stanno arrivando 20 milioni di euro da parte dell'Unione Europea per il Forum Culture. Sembra che lui abbia rimosso la figura sia di Odati e sia dell'altro assessore. e poi c'è stato anche l'accordo con Caldoro in un incontro che c'è stato per la costruzione di un nuovo termovalorizzatore che sarà fatto a Gaeta. Questo sarà un grosso termovalorizzatore per come, insomma, gli accordi si sono fatti e assimilerà un poco di lavoro, insomma, si cercherà, secondo loro, di risolvere il problema della spazzatura che non sia soltanto quella campana, ma addirittura si parla anche dello stesso Lazio. Per cui, ora ci sono tutti una serie di interessi corporativi che, logicamente, si dovranno sviluppare con calma. No. E si stanno sviluppando. Non è che non lo sta facendo. Quindi, a Napoli diciamo che anche qui è partitocrazia, soltanto che è molto più occulta, è molto più raffinata e molto più soft. Perché, appunto, noi, come diceva pure prima Rodolfo, Napoli è una città che, insomma, difficilmente ci si può proporre per andare incontro a un minimo di prestino di legalità in tutti i settori. Questo è quello che posso dire su De Magistris. Poi, insomma, bisognerà, ora, vedere che, insomma, ora, come lui, anche al Comune, che possa poter gestire una maggioranza che è una maggioranza, se vogliamo, comunista, ecco. dove, insomma, ci sono quelli del CEL, ci sono altre figure, insomma, di comunisti. Andavo io a parlare, guarda, parlare dei comunisti a Napoli, guarda, io nel 2010, mi sento proprio, veramente, un po' così. E va bene. Comunque, questa è la nostra situazione. Noi siamo in rivolta, vedremo. E come potremo incidere. Sicuramente l'anagrafe pubblica degli eletti, noi la stiamo ancora aspettando, comunque. Non so ora come dobbiamo comportarci, vediamo, manderemo lettere. Ma ci sembra che questo nostro sindaco internettiano, insomma, si stia dando molte pause di riflessione. Allora, io, siete finito, continuerei, ma se a voi avete dei temi specifici che riguardano l'attività dell'Associazione per la Grande Napoli, chiaramente vi lascerei libertà di intervento, di parola sugli argomenti. Sì, io una cosa voglio dire, poi lascio la parola a voi, parlo giusto un minuto. Allora, noi faremo ora questa inaugurazione di questa nostra sede, che tra l'altro, insomma, è un luogo dove ci sta l'Arci Lesbica, nel cuore di Napoli, al centro di Napoli, vicino San Domenico Maggiore, per cui, insomma, molti giovani si possono avvicinare a noi e seguire tranquillamente le nostre riunioni. È chiaro che noi il lavoro che vogliamo svolgere in questa sede è proprio quella di un'apertura a tante tematiche, che poi sono anche le nostre radicali, nella zona universitaria, propagandare le nostre tematiche e farlo con i giovani attraverso delle riunioni che organizzeremo con loro in questo luogo. Quindi questo, diciamo, è un motivo soddisfacente, sia per noi che per loro, per avere appunto un luogo, un posto dove si possa parlare di politica. E poi, in effetti, farla la politica e cambiare le cose come noi tutti vorremmo. Questo ci tenevo a dirlo, poi potete anche parlare voi di altre cose. Posso due minuti? Ci mancherebbe anche quattro. No, per le cose che, per qualche precisazione, diciamo, per quanto riguarda anche i figli eletti. Questo è stato una grande vittoria della grande Napoli e, se permettete, posso anche rivendicarlo un po' personalmente, perché a quell'epoca sono stato il segretario dell'associazione che poi, con oltre un anno di battaglie, ha portato ad avvenire quel risultato. E ne sono particolarmente fielo perché per i miei trascorsi a Radio Radicale ho vissuto dieci anni nel Consiglio Comunale dove sono stato l'unico cittadino napoletano che aveva la possibilità di conoscere i fatti della politica della città. Fatti che poi venivano usati, insomma, in modo strumentale dalla stampa locale, e non c'era spesso corrispondenza tra la discussione in Consiglio e poi quello che leggevamo il giorno dopo sui quotidiani. Quindi, io ho apprezzato moltissimo il lavoro che ha fatto il Sindaco, che ha voluto, dalla prima seduta consigliare, mandare in diretta i lavori del Consiglio Comunale. Questi sono in diretta sul sito Internet del Comune, è una rivoluzione per la città. Il problema è che questa rivoluzione non ha nessuna pubblicità. Non c'è stato nessun giornale in città che ha pubblicato allora quell'evento dell'approvazione dell'anagrafe degli eletti, e poi adesso anche questa novità non è adeguatamente sottolineata, perché consentire ai cittadini napoletani di esercitare la loro funzione di controllo sui propri eletti è veramente rivoluzionale. Abbiamo aspettato, io con fiducia, il segretario era impaziente, ma ho aspettato con fiducia poi tutta la pubblicazione relativa all'anagrafe degli eletti ai padrimoni. Dopo un bell'articolo apparso in estate, credo sul mattino, che faceva un po' il quadro della situazione rispetto alla regione comune e provincia dove c'è l'anagrafe degli eletti in tutti e tre enti, praticamente faceva anche un po' la denuncia di tutti i dati che mancavano. Dopo una settimana il comune di Napoli mette sul proprio sito, nella pagina dell'anagrafe degli eletti, pagina in costruzione. Ora, da qualche giorno, questo lavoro è stato pubblicato e è cambiata un po' la struttura del sito rispetto ai documenti pubblicati che già erano stati pubblicati nella precedente consigliatura. Ma sono state pubblicate delle schede per ogni consigliere dove ci sono i gettoni di presenza, le dichiarazioni dei redditi di tutti gli anni del mandato, poi ci sono le spese che ha ricevuto il gruppo per il funzionamento e tutte le schede con gli atti fatti in consiglio comunale. questa esattamente, ovviamente queste schede sono quasi del tutto vuote, mancano le dichiarazioni dei redditi, ci sono soltanto alcuni dati, ci sono i dati delle spese del gruppo comunale, i gettoni percepiti personalmente per le presenze in consiglio, ma le dichiarazioni dei redditi ancora non ci sono, insomma, comunque si sta lavorando. Quindi, anche questo è un passo importante che noi rivendichiamo, perché è nato sulla nostra iniziativa. Si parla anche sui giornali di anagrafe degli eletti, sono molti giornalisti finalmente che vanno a leggere questi dati, li pubblicano e quindi, diciamo, ora è chiaro, noi vogliamo che questa delibera sia attuata completamente, quindi tutti i dati che mancano, ovviamente, faremo pressione verso il sindaco, verso le strutture comunali per farle pubblicare al più presto. E poi, diciamo, rispetto alla domanda che faceva il direttore, oggi noi siamo fortunati, abbiamo un 4 ore in più, però il tempo sta volando, mancano 12 minuti, quindi dopo l'intervento di Maria Angela, io farei magari un tre minuti a testa per parlare anche un po', diciamo, io volevo anche dire un minuto sul congresso e poi sui prossimi appuntamenti dell'associazione, diciamo, fare un giro finale per i prossimi appuntamenti dell'associazione, da politici c'è l'amnistia, ci sono altre cose importanti che si raccordi. Diciamo che io ho espresso già il mio parere su quanto riguarda il sindaco, non so di che cosa... dimmi Roberto... No, no, sono Gianni, possiamo passare direttamente, se non c'è, se manca qualche argomento, possiamo, giustamente come suggeriva Rodolfo, passare proprio, scusate, all'esposizione delle nuove iniziative dell'Associazione per la Grande Napoli, che sono importanti. Certo, le iniziative, come dicevo prima, noi le continueremo. Credo la più impellente sia quella sull'amnistia, perché, come facciamo pannelle di nuovo in digiuno, diciamo, quella non risolta, non che le altre siano risolte, però mi sembra quella più importante, perché mentre eravamo in congresso c'è giunta notizia di due decessi, di un suicidio e di un'altra persona, adesso non ricordo di preciso, quindi la gente continua a morire. Questa è una tematica, diciamo, vitale. Poi ci sono le altre iniziative, quella sui contributi silenti, quella sull'anagrase che ha appena citato Rodolfo, e i contributi silenti. continueremo a fare dei tavoli. Il luogo dell'università penso che sia sicuro, anche perché i giovani hanno bisogno di capire la politica radicale, perché il mio grosso dubbio, come ho anche espresso al congresso, è che molto ancora non si sa della politica radicale, e ci sono molti luoghi comuni che mi fanno molto innervosire spesso, e quindi fare questi tavoli presso l'università è oltretutto un grosso investimento, un investimento politico. ribadisco l'appuntamento di martedì, quindi invito tutti a venire alla nuova sede. mi auguro che la sede ci porti ancora più, ci porti ancora meglio, perché quest'anno abbiamo lavorato tantissimo, e devo dire bene, io sono fiera di aver occupato il ruolo di tesoreria, perché devo dire, questo l'ho anche detto al congresso, che negli ultimi due anni l'associazione per la grande Napoli ha lavorato molto e bene, però c'è tantissimo da fare, non lo nascondo. va bene. Allora a te Rodolfo. Allora, riguardo il congresso, credo che sia stato un buon congresso, ci sono stati anche buoni interventi, c'è stato anche un interesse dal punto di vista dell'economia, si è parlato un po' di finanza, si sono abbracciati altre tematiche, dei problemi molto seri che noi stiamo vivendo nel nostro paese. Grazie. I nostri interventi degli associati della grande Napoli sono stati tutti interventi di alta ugualità, l'intervento di Roberto Gaudioso, l'intervento di Rodolfo Viviani, l'intervento di Maria Angela, l'intervento di Emilio Martucci, il mio umile intervento come segretario. Credo che noi abbiamo dato un grande apporto alla rivolta che in effetti noi stavamo già vivendo, la stavamo facendo, la stavamo facendo già da anni. E ora diciamo che noi eravamo andati lì proprio per dirgli guardate che noi siamo in rivolta, ve lo stiamo dicendo. E questa rivolta continua. Ora noi siamo tornati soddisfatti. Rodolfo dopo vi illustrerà di un'iniziativa che se si riuscirà a compiere, insomma, sarà una bellissima soddisfazione per tutti noi e credo proprio per tutta l'Italia che sta soffrendo questo mondo, diciamo, di malessere, di tragedie, di gente che sta morendo gratuitamente, così, senza un minimo di diritto, di umanità. Per quanto riguarda un'assemblea che dovremmo fare il giorno 17. Quindi Rodolfo ora ve ne parlerà di questi iniziati. Sì, appunto volevo dare lo spazio a Rodolfo, se no poi andavamo. Vai a te Rodolfo. Sì, allora parto anch'io dal congresso, perché nell'ultimo comitato nazionale di radicali italiani io avevo preso il rischio di dire, nonostante quello che appunto invece sentivo, di andare in controtendenza, diciamo. Affermare che il congresso che avremmo avuto sarebbe stato un bel congresso e che potevamo raggiungere anche il numero degli iscritti dell'anno precedente a radicali italiani, che era stato, già il dato dell'anno scorso, era stato superiore a quello dell'anno precedente. Quindi continuare una piccola crescita che io sento nel nostro movimento, nonostante tutte le difficoltà. Adesso non so se riusciremo, il congresso è stato molto partecipato, ci sono stati 52 nuovi iscritti al movimento in quella sede, questo è molto importante, che significa che appunto c'è attenzione, nonostante tutto il lavoro dei media contro l'area radicale. E quindi questo perché io ho affermato questo? Perché posso avere la presunzione di affermare che l'associazione radicale per la grande Napoli è ormai una parte importante del movimento italiano, di radicali italiani. Negli ultimi tre anni abbiamo sviluppato una politica nuova a Napoli e la forza ce l'ha data il documento sulla pezza italiana, la famosa stella gialla. Perché il gruppo dirigente, che appunto forma l'associazione, ha sentito questo documento come proprio, ha anche partecipato con la presenza del professore Aldolori Strossi e quindi ha deciso di cambiare anche la propria vita, mettendosi in gioco persone che magari erano appunto in quel momento, a partire da me stesso, preferivano un impegno diverso. Quindi questa forza ha fatto in modo che poi appunto attraverso l'azione militante fatta per strada, mettendoci la faccia, sacrificando il proprio tempo, denaro e salute, come dice il segretario, potessimo avere un gruppo davvero pronto poi su tante iniziative e questo fa sì che poi negli ultimi tre anni abbiamo potuto al Comitato Nazionale eleggere una classe dirigente nuova. Io ricordo che con la lista di tre anni fa ad esempio sono stati eletti lo stesso Luigi Mazzotta che non era mai stato al Comitato Nazionale, Paolo Breccia, tesori dell'Associazione, Riccardo Custuti, Imma Passananti, Jasmine Lavaglia che è arrivato in Comitato insieme a noi, Nicolino Tosoni, Gennaro Romano, cioè una massa di persone, di dirigenti, di radicali magari ignoti che stavano dando un contributo importante e anche per l'anno prossimo, a parte la riconferma, quindi il successo che abbiamo avuto in congresso, c'è anche Emilio Martucci che l'anno prossimo sicuramente sarà nel prossimo Comitato Nazionale e anche Emilio negli ultimi anni sta dando un importante contributo. Quindi c'è un gruppo unito che è consapevole della sua forza e del ruolo che ha all'interno di questo movimento nazionale. Quindi noi siamo obbligati a non mollare, a rilanciare le nostre iniziative a partire appunto dalla nuova sede. Ho raccontato, non ho raccontato, nel mio intervento al congresso ho fatto un po' una storia veloce degli ultimi dieci anni di Radicali Italiani e del Partito Trasnazionale che è la stella che orienta il nostro operato quotidiano. Quindi sicuramente l'Associazione per la Grande Napoli farà di tutto per offrire occasioni politiche per la crescita anche di questo congresso, per la riuscita di questo congresso, a partire dall'amnistia. Noi sappiamo che abbiamo il dovere e l'occasione di ritornare presso il carcere di Polgeniale per un'assemblea aperta con parenti dei detenuti, operatori carcerari, associazioni, eccetera. E vedremo se, come spero, qualche, a partire da Marco Pannella, noi inviteremo Marco a stare con noi alle sede del mattino a parlare con le migliaia di persone che sono in fila presso il carcere di Polgeniale e magari insieme ad associazioni, partite, eccetera, per creare una grande assemblea pubblica per strada per parlare di questo dramma italiano, della tortura di Stato e dell'assassinio che praticamente lo possiamo dire senza paura, che si compri ogni giorno a danni di persone che sono lì non per essere umiliati e disintegrati nella loro personalità, ma sono lì per essere messi in condizioni di ritornare nella società in condizioni di poter vivere una vita normale e senza delinquere. Quindi, insomma, abbiamo tanto da fare ma abbiamo anche la consapevolezza di una grande forza che in questo momento l'associazione esprime e quindi siamo sicuri che il nostro congresso del 17 dicembre sarà davvero un'occasione importante anche per la città. Io, siccome come sapete noi siamo ovviamente interattivi con la chat, se fosse possibile vorrei chiedervi di scrivere l'indirizzo della vostra associazione così sulla chat lo divulghiamo il più possibile e possa diventare più facilmente un centro di, diciamo, una casa per la possibilità di uno scambio politico diffondiamolo, così, insomma, è una cosa importante. Adesso avete una sede fisica, so che voi fate anche un ottimo lavoro di collegamento con i familiari dei carcerati di Poggio Reale, quindi diventa, insomma, un luogo importante dove si possa trovare, oltre che conforto, la possibilità di scambio politico. A questo punto io penso che abbiamo terminato il nostro... Sì, è scaduto il tempo, scusa se ti tolgo la parola, Gianni intervengo, intanto ho provveduto a mettere il dominio dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli sul sito, il sito è www.perlagrandenapoli.org Ecco, si conclude qui quindi lo spazio qui Napoli e complimenti veramente ai compagni napoletani per tutte le iniziative che riescono a portare avanti e per la grande crescita che ha avuto nel corso degli ultimi due anni questa associazione. Ecco, saluto quindi Gianni Coracione, Rodolfo Viviani, Luigi Mazzotta e Mariangela Pisano e dando appuntamento... Dando appuntamento a una delle prossime puntate di qui Napoli, saluto tutti, torno nello studio, chiudo la comunicazione con il direttore e i compagni di Napoli...